Benvenuti! Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Grazie! Durante la diretta al Tg1, è stato reso noto un importante annuncio che ha suscitato emozioni intense tra i seguaci di Padre Pio. Questa straordinaria notizia ha portato grande gioia tra i fedeli, spingendoli ad anticipare un futuro pellegrinaggio verso i siti sacri associati al famoso santo. Il rettore del santuario di San Giovanni Rotondo, Frate Aldo, ha condiviso direttamente questa entusiasmante informazione. Egli ha svelato che la reliquia contenente il cuore di Padre Pio sarà messa in mostra in concomitanza con il corpo stesso, nel mese di settembre. Questo evento è stato programmato in previsione della celebrazione liturgica dedicata al santo di Pietrelcina. Le dichiarazioni di Frate Aldo sono state rilasciate in occasione del centenario dal testamento del santo del Gargano. Naturalmente, l'annuncio ha riempito di gioia i devoti, i quali ora si preparano a intraprendere un pellegrinaggio verso i luoghi sacri, guidati dall'entusiasmo e dalla fede. Lascia nei commenti una preghiera per Padre Pio.